Di Victor Hugo, I Miserabili. Voce di Lorenzo Pieri. Parte prima. Fantin. Libro secondo. La caduta. Capitoli secondo e terzo. Capitolo secondo. La prudenza consigliata alla saggezza. Quella sera il vescovo di Dignes, dopo la sua passeggiata in città, era rimasto chiuso in camera sua fino a tardi. Si occupava di una grande opera sui doveri, rimasta purtroppo incompiuta. Esaminava accuratamente tutto ciò che i padri e i dottori hanno dichiarato su questa grave materia. Il suo libro era diviso in due parti. Dapprima i doveri di tutti, poi i doveri di ciascuno, secondo la classe cui appartiene. I doveri di tutti sono i grandi doveri. Ve ne sono quattro. San Matteo li indica. Doveri verso Dio. Doveri verso se stessi. Doveri verso il prossimo. Doveri verso le creature. Quanto agli altri doveri, il vescovo li aveva trovati indicati e prescritti altrove, ai sovrani e ai sudditi nell'epistola ai romani, ai magistrati, alle spose, alle madri e ai giovani da San Pietro, ai mariti, ai padri, ai figli e ai servitori, nell'epistola agli efesini, ai fedeli, nell'epistola agli ebrei, alle vergini, nell'epistola ai corinzi. Costruiva, laboriosamente con tutte queste prescrizioni, un insieme armonioso che voleva presentare ai devoti. Lavorava ancora, alle otto, scrivendo piuttosto scomodamente su dei quaderni di carta, con un grosso libro aperto sulle ginocchia, quando la signora Magloire entrò, secondo la sua abitudine, per prendere l'argenteria nell'armadio a muro accanto al letto. Un momento dopo, il vescovo, accorgendosi che la tavola era apparecchiata e che sua sorella forse lo stava aspettando, chiuse il libro, si alzò dal suo tavolo ed entrò in sala da pranzo. La sala da pranzo era una stanza oblunga, col camino con una porta sulla strada e una finestra sul giardino. La signora Magloire stava infatti terminando di mettere i coperti. Pur attendendo al servizio, chiacchierava con la signorina Baptistine. Sulla tavola c'era una lampada, la tavola era presso il caminetto, ardeva un gran bel fuoco. Possiamo immaginare facilmente quelle due donne, che avevano entrambe passato i sessanta. La signora Magloire, piccola, grassa, vivace. La signora Baptistine, dolce, minuta, fragile, un po' più alta di suo fratello. Vestita con un abito di seta pulce, colore alla moda nel 1806, che aveva acquistato allora a Parigi e che le durava ancora. Per usare locuzioni volgari, che hanno il merito di dire con una sola parola, un'idea che una pagina basterebbe appena ad esprimere, la signora Magloire aveva l'aria di una contadina e la signorina Baptistine di una dama. La signora Magloire aveva una cuffia bianca pieghettata, al collo una crocetta d'oro, l'unico gioiello femminile che ci fosse in casa, uno scialletto bianchissimo che usciva da un abito di bigiello nero, a maniche larghe e corte, un grembiule di tela di cotone a quadri rossi e verdi, annodato alla cintola con un nastro verde, con la pettorina uguale, fissata ai due angoli superiori con due spille, ai piedi scarpe grosse e calze gialle come le donne di Marsiglia. L'abito della signorina Baptistine era tagliato sui modelli del 1806, vita corta, corpetto attillato, maniche a spalline, compattine e bottoni. Nascondeva i capelli grigi sotto una parrucca cotonata detta all'enfant. La signora Magloire aveva l'aria intelligente, vivace e buona. Gli angoli della bocca rialzati in maniera diseguale e il labbro superiore più grosso di quello inferiore le davano un che di burbero e di imperioso. Finché Monsignore taceva, ella gli parlava risolutamente con un misto di rispetto e di libertà. Ma appena Monsignore parlava, lo si è visto, obbediva passivamente come la signorina. La signorina Baptistine non parlava neppure. Si limitava ad obbedire e a compiacere. Neppure da giovane era bella. Aveva grandi occhi azzurri sporgenti e il naso lungo e arcuato. Ma tutto il suo volto, tutta la sua persona, l'abbiamo detto all'inizio, spiravano una bontà ineffabile. Era sempre stata predestinata alla mansuetudine, ma la fede, la carità, la speranza, queste tre virtù che riscaldano dolcemente l'anima, avevano innalzato a poco a poco questa mansuetudine alla santità. La natura non ne aveva fatto che un agnello, la religione ne aveva fatto un angelo. Povera santa fanciulla, dolce ricordo svanito. La signorina Baptistine ha poi narrato tante volte ciò che era accaduto al vescovado quella sera che molte persone ancora in vita ne ricordano i più insignificanti dettagli. Nel momento in cui il vescovo entrò, la signora Magloire stava parlando con una certa vivacità. Intratteneva la signorina su un argomento che le era familiare e al quale il vescovo era abituato. Si trattava del catenaccio della porta d'entrata. Sembrava che, andando a far qualche provvista per la cena, la signora Magloire avesse sentito dire delle cose in diversi posti. Si parlava di un vagabondo dal pessimo aspetto che era arrivato un viandante sospetto che doveva essere da qualche parte in città e che poteva darsi che coloro che fossero rientrati a casa tardi quella notte facessero dei cattivi incontri. Che del resto l'ordine pubblico era assai mal garantito visto che il signor prefetto e il signor sindaco non si amavano e cercavano di nuocersi lasciando correre le cose. Che dunque le persone sagge dovevano farsi la polizia da soli e ben guardarsi e che bisognava aver cura di chiudere, sbarrare e barricare come si deve la propria casa e di mettere il catenaccio alle porte. La signora Magloire enfatizzò queste ultime parole ma il vescovo veniva dalla sua camera dove aveva avuto piuttosto freddo e si era seduto davanti al caminetto e si discaldava e poi pensava ad altro. Non raccolse le parole ad effetto che la signora Magloire aveva lasciato cadere. Ella le ripetè. Allora la signorina Baptistin volendo compiacere la signora Magloire senza dispiacere al fratello si alzò a dire timidamente «Fratello mio, avete sentito cosa ha detto la signora Magloire?» «Ho inteso vagamente qualcosa», rispose il vescovo. Poi, girando a metà la sedia posando le mani sulle ginocchia e levando verso l'anziana domestica il suo viso cordiale e facilmente allegro che il fuoco illuminava dal basso «Sentiamo che c'è, che c'è! Siamo dunque in grave pericolo!» Allora la signora Magloire ricominciò tutta la storia esagerandola un po' senza rendersene conto. Sembrava che uno zingaro, uno straccione, una specie di mendicante pericoloso si trovasse in quel momento in città. Si era presentato in cerca di alloggio da Jacquin Labarre che non aveva voluto accoglierlo. L'avevano visto venire dal boulevard Gassendie vagare per le strade all'imbrunire, una faccia da forca con un aspetto orribile. «Davvero?» disse il vescovo. Questa disposizione a interrogarla incoraggiò la signora Magloire. La cosa pareva indicarle che il vescovo non era lungi dall'allarmarsi. Essa proseguì trionfante. «Sì, monsignore, è proprio così. Succederà qualcosa di brutto stanotte in città, lo dicono tutti. Con questa cosa che la polizia è così malfatta. Vivere in un paese di montagna e non avere neppure lanterne di notte per le strade. Si va fuori buio pesto. E io dico, monsignore, e la signorina dice anche lei, come me. «Io», interruppe la sorella, «non dico niente. Ciò che fa mio fratello è ben fatto». La signora Magloire continuò come se non ci fosse stata alcuna protesta. «Noi diciamo che questa casa non è affatto sicura e che se monsignore permette io vado a dire a Polin Nusboa, il fabbro, che venga a rimettere i catenacci alla porta. Li abbiamo lì, è un attimo. E dico che i catenacci ci vogliono, monsignore. Non fosse che per questa notte, perché dico che una porta che si apre da fuori con una nottola, dal primo che passa, non c'è niente di più terribile, con la storia che monsignore ha l'abitudine di dire a tutti di entrare. E del resto, anche in piena notte, mio Dio, non c'è bisogno di chiedere permesso». In quel momento bussarono alla porta, un colpo piuttosto violento. «Entrate», disse il vescovo. Capitolo terzo Eroismo dell'obbedienza passiva La porta si aprì. Si aprì rapidamente, per intero, come se qualcuno l'avesse spinta con energia e decisione. Un uomo entrò. Quest'uomo noi lo conosciamo già, è il viandante che poco fa abbiamo visto entrare in cerca di un giaciglio. Entrò, fece un passo e si fermò, lasciando la porta aperta dietro di sé. Aveva lo zaino in spalla, il bastone in mano, un'espressione rude, ardita, stanca e violenta negli occhi. Il fuoco del caminetto lo illuminava, era orrendo, era un'apparizione sinistra. La signora Magloire non ebbe neppure la forza di gettare un grido, trassalì e rimase inebetita. La signorina Baptistin si voltò, vide l'uomo che entrava e si drizzò per metà dallo sgomento. Poi, volgendo di nuovo pian piano la testa verso il caminetto, si mise a guardare il fratello e il suo volto ridivenne profondamente calmo e sereno. Il vescovo fissava sull'uomo uno sguardo tranquillo. Mentre apriva la bocca, senza dubbio per chiedere al nuovo venuto cosa desiderasse, l'uomo posò entrambe le mani sul bastone, guardò il vecchio e le donne e senza aspettare che il vescovo parlasse, disse ad alta voce «Ecco, mi chiamo Jean Valjean, sono un galeotto, ho fatto diciannove anni di bagno penale, mi hanno liberato quattro giorni fa, sono in viaggio per Pontarlier, che è la mia destinazione. Sono quattro giorni che cammino da Tolone. Oggi ho fatto dodici leghe a piedi. Stasera, arrivando in questo paese, sono stato in una locanda, mi hanno mandato via per colpa del mio lasciapassare giallo, che avevo mostrato in municipio. Si deve fare così. Sono stato in un'altra locanda, mi hanno detto «Vattene!» Da questo, da quello, nessuno ha voluto saperne. Sono stato alla prigione. Il secondino non mi ha aperto. Sono stato nella cuccia di un cane. Quel cane mi ha morso e mi ha cacciato via come se fosse stato un uomo. Sembrava che sapesse chi ero. Sono andato nei campi per dormire sotto le stelle. Non c'erano stelle. Ho pensato che avrebbe piovuto e che non c'era nessun buon Dio che potesse evitare la pioggia. E sono rientrato in città per ripararmi sotto un portone. Qui, nella piazza, stavo per coricarmi su una pietra. Una buona donna mi ha mostrato la vostra casa e mi ha detto «Bussa a quella porta». Ho bussato. Che cos'è questa casa? Un albergo? Ho del denaro, il mio compenso. 109 franchi e 15 centesimi che ho guadagnato in galera col mio lavoro di 19 anni. «Pagherò. Cosa mi importa? Ho i soldi. Sono stanco morto. Dodici leghe a piedi. Ho molta fame. Posso restare?» «Signora Magluar», disse il vescovo, «mettete un altro coperto». L'uomo fece tre passi e si avvicinò alla lampada che era sulla tavola. «Sentite», riprese, come se non avesse ben compreso, «Non si tratta di questo. mi avete capito. Sono un galeotto, un forzato. Vengo dal bagno penale». Tirò fuori di tasca un gran foglio di carta gialla e lo dispiegò. «Ecco il mio lascia passare, giallo, come vedete. Serve a farmi cacciar via dovunque io vada. Volete leggere? So leggere io. Ho imparato in galera. C'è una scuola per chi vuole. Ecco, sentite cosa hanno scritto sul lascia passare. Jean Valjean, forzato liberato, nativo di… Questo non importa. È stato carcerato per diciannove anni, cinque anni per furto con scasso, quattordici anni per aver tentato di evadere quattro volte. Quest'uomo è molto pericoloso. Ecco, tutti mi hanno cacciato via. E voi volete accogliermi? È un albergo questo. Volete darmi da mangiare e da dormire. Avete una stalla? Signora Magluar, disse il vescovo, mettete delle lenzuola pulite nel letto dell'alcova. Abbiamo già spiegato di quale natura fosse l'obbedienza delle due donne. La signora Magluar uscì per eseguire gli ordini. Il vescovo si rivolse all'uomo. Signore, sedete e riscaldatevi. Ceneremo tra un istante. e mentre mangerete vi si preparerà il letto. Qui l'uomo comprese di colpo. L'espressione del suo volto, fino allora cupa e dura, si tinse di stupefazione, di dubbio, di gioia e divenne straordinaria. Si mise a balbettare come un folle. Davvero, voi mi accogliete? Non mi cacciate via? Un forzato! E mi chiamate Signore e mi date del voi, non del tu. Vattene cane, mi dicono sempre. Credevo proprio che mi avreste scacciato. Eppure vi ho detto subito chi sono. Oh, quella brava donna che mi ha indirizzato qui. Potrò cenare. Un letto con materasso e lenzuola. Come tutti. Un letto! Sono diciannove anni che non dormo in un letto. Volete davvero che non me ne vada? Siete gente per bene, ma io ho dei soldi. Pagherò bene. Scusate, signor locandiere, come vi chiamate? Pagherò quello che volete. Siete un brav'uomo. Siete locandiere, vero? Sono un prete che abita qui, disse il vescovo. Un prete, rispose l'uomo. Oh, un brav'uomo di prete. Allora, non mi domandate di pagare? Il curato, vero? Il curato di questa grande chiesa. Toh, è vero, bestia che sono. Non avevo visto la vostra tonsura. Parlando, aveva posato lo zaino e il bastone in un angolo. Aveva rimesso il lasciapassare in tasca e si era seduto. La signorina Baptistin lo esaminava con dolcezza. Egli continuò, voi siete umano, signor curato. Non dimostrate disprezzo. Un buon prete è una gran bella cosa. Allora, non avete bisogno che paghi? No, disse il vescovo. Tenete il vostro denaro. Quanto avete, dicevate, centonove franchi e quindici centesimi, aggiunse l'uomo. Centonove franchi e quindici centesimi. E quanto tempo ci avete messo a guadagnarli? Diciannove anni. Diciannove anni. Il vescovo sospirò profondamente. L'uomo proseguì. Ho ancora tutti i miei denari. Da quattro giorni ho speso solo i venticinque soldi che ho guadagnato aiutando a scaricare dei carri a gas. Poiché siete abate, vi dirò, avevamo un cappellano in galera. E poi un giorno ho visto un vescovo, un monsignore, come si dice. Era il vescovo della Maggiorie di Marsiglia. Era il curato che comanda sui curati. Scusate, mi esprimo male, ma per me sono cose così lontane. Capirete, noi altri. Ha detto, messa nel bagno penale su un altare, aveva una cosa puntita d'oro sulla testa. Luccicava al sole di mezzogiorno. Eravamo tutti allineati sui tre lati, coi cannoni puntati su di noi, la miccia accesa. Non vedevamo, granché. Ha parlato, ma era troppo lontano, non capivamo niente. Ecco, cos'è un vescovo. Mentre parlava, il vescovo era andato ad accostare la porta, che era rimasta spalancata. La signora Magluar rientrò, portando un coperto che mise sulla tavola. Signora Magluar, disse il vescovo, mettete quei piatti il più vicino possibile al fuoco. E volgendosi al suo ospite, il vento della notte è duro nelle Alpi, avrete freddo, vero signore? Ogni volta che pronunciava quella parola signore, con la sua voce dolcemente grave e di così buona compagnia, il viso dell'uomo si illuminava. signore ha un forzato e un bicchier d'acqua ha un naufrago della Meduse. L'ignominia ha sete di considerazione. Questa lampada, rispose il vescovo, non fa abbastanza luce. La signora Magluar capì e andò a prendere sul caminetto della camera da letto di Monsignore i due candelieri d'argento che posò sulla tavola accesi. Signor curato, disse l'uomo, voi siete buono, voi non mi disprezzate, voi mi accogliete in casa vostra, accendete le vostre candele per me e io non vi ho nascosto da dove vengo e che sono uno sventurato. Il vescovo, seduto accanto a lui, gli toccò dolcemente la mano. Potevate anche non dirmi chi siete. Questa non è la mia casa, è la casa di Gesù Cristo. questa porta non chiede a colui che entra se ha un nome, ma se ha un dolore. Voi soffrite, voi avete fame e sete, siate il benvenuto e non ringraziatemi, non mi dite che vi accolgo in casa mia. Qui nessuno è in casa propria, salvo colui che ha bisogno di un asilo. Lo dico a voi che passate, voi qui, siete in casa vostra più di me. tutto ciò che c'è qui è vostro, che bisogno ho di sapere il vostro nome. D'altronde, prima che me l'aveste detto, il vostro nome io lo conoscevo. L'uomo spalancò due occhi stupefatti. Davvero, sapevate come mi chiamo? Sì, rispose il vescovo, vi chiamate mio fratello. Sentite, signor curato, esclamò l'uomo, avevo molta fame entrando qui, ma voi siete così buono che adesso non so più cos'ho. La fame mi è passata. Il vescovo lo guardò e disse, avete sofferto molto. Oh, la casacca rossa, la palla al piede, un tavolaccio per dormire, il caldo, il freddo, il lavoro, la ciurma, le bastonate, la catena doppia per niente, la segregazione per una parola, anche malato, a letto, la catena, i cani, i cani stanno meglio, diciannove anni, ne ho quaranta sei, e adesso il lascia passare giallo, ecco. Sì, riprese il vescovo, voi uscite da un luogo di tristezza, ascoltate, ci sarà più gioia in cielo per il volto in lacrime di un peccatore pentito che per la veste bianca di cento giusti, se uscite da quel luogo di dolore con pensieri d'odio e di collera contro gli uomini, siete degno di pietà, se ne uscite con pensieri di benevolenza, di dolcezza e di pace, valete più di ciascuno di noi. Intanto, la signora Magluar aveva servito la cena, una zuppa fatta con acqua, olio, pane e sale, un po' di lardo, un pezzo di carne di montone, fichi, un formaggio fresco e un grosso pane di segala. Aveva aggiunto di sua iniziativa alla solita cena di Monsignor Vescovo una bottiglia di vecchio vino di Mauve. Il volto del Vescovo assunse di colpo quell'espressione di gaiezza propria delle nature ospitali. «A tavola!» disse vivacemente, come usava quando un estraneo cenava con lui. Fece sedere l'uomo alla sua destra. La signorina Baptistin, perfettamente tranquilla e naturale, prese posto alla sua sinistra. Il Vescovo recitò il benedicite, poi servì egli stesso la zuppa come d'abitudine. L'uomo si mise a mangiare avidamente. Improvvisamente il Vescovo disse, «Ma mi pare che manchi qualcosa su questa tavola!» La signora Magluare in effetti non aveva messo che le tre posate assolutamente necessarie. Ora era usanza della casa quando Monsignor Vescovo aveva qualcuno a cena disporre sulla tovaglia le sei posate d'argento, esibizione innocente. Quella graziosa sembianza di lusso era una sorta di puerilità piena di fascino in quella casa dolce e severa che innalzava la povertà fino alla dignità. La signora Magluare comprese l'osservazione, uscì senza dire una parola e un momento dopo le tre posate reclamate dal Vescovo brillavano sulla tovaglia simmetricamente disposte dinnanzi a ciascuno dei tre commensali.